Una vicenda che ha fatto alzare tantissime polemiche a Giulianova, polemiche che sicuramente andranno avanti per lungo tempo. Stiamo parlando della vicenda relativa allo sgombero dell'area dell'ex depuratore all'annunziata che c'è stata venerdì scorso per fare iniziare i lavori di riqualificazione proprio dell'area interessata. Pochi giorni fa in consiglio comunale toni accesi tra maggioranza opposizione e i ragazzi del campetto occupato. Per il primo cittadino giuliese, Ivan Costantini, riqualificazione dell'area necessaria dove esorgerà una grande area verde fondamentale per lo sviluppo della zona. Mentre sulla vicenda sgombero Costantini non si sbilancia. Ma io su questa faccenda non ho mai rilasciato dichiarazioni, non lo farò neanche adesso. Mi limiterò solo a dire che i lavori sono iniziati, la ditta ha preso possesso del cantiere e quindi come avevamo promesso sin dal 2019, molti anni prima in cui l'area è stata occupata, ci sarà, sorgerà lì una pesante riqualificazione con un parco che sarà finalmente aperto alla città e fruibile a tutti i cittadini giuliesi. È un intervento importante che segue tutta una serie di interventi che già ci hanno visto protagonista dal 2019. Quindi diciamo che in cinque anni sul parco dell'Annunziata, per quanto riguarda asfalti, manutenzioni, rifacimento delle piazze abbiamo fatto un ottimo lavoro, continueremo con l'area dell'ex depuratore. Io ricordo a tutti che abbiamo già riqualificato il ponte ciclopedonale che collega Giulianova con Cologna Spiagge e Roseto, ma comunque continueremo anche per quanto riguarda tutta la viabilità sostenibile sia sul lungomare che su via Trieste, ma anche sulle vie importanti come via Lepanto e altre vie dell'Annunziata. Noi ci teniamo particolarmente al quartiere, l'abbiamo dato dimostrazione in in questi cinque anni in cui abbiamo amministrato siamo stati ripagati con un consenso straordinario anche l'Annunziata e naturalmente continueremo a lavorare senza sosta.